Arrivata la sua sesta stagione, The Walking Dead ha dimostrato ancora una volta di saper tenere il pubblico incollato allo schermo. Per tirare le somme, abbiamo deciso di sottolineare gli aspetti della stagione 6 che più abbiamo apprezzato, quelli che ci hanno convinto solo in parte, e quelli di cui invece avremo fatto a meno. Negan, il personaggio più atteso della stagione e brillantemente interpretato da Jeffrey Dean Morgan, è forse la new entry più interessante. Ma non è solo lui a funzionare, ma anche i suoi uomini e il modo in cui ci vengono mostrati. Da un innocuo gruppo di nemici come tutti gli altri, diventano una minaccia che va oltre qualsiasi aspettativa. Ciò che ci ha permesso di godere maggiormente della sesta stagione è stata la regia di Greg Nicotero, che ha decisamente dato il meglio di sé. I quattro episodi diretti da lui, compreso il finale, rappresentano dal punto di vista tecnico e registico il momento più alto dell'intera serie. È difficile che in The Walking Dead i personaggi introdotti per ultimi riescano a brillare, ma figure come Eugene, Sasha, Abram e padre Gabriel hanno acquistato un certo spessore. Gli ultimi arrivati, Jesus e Denise, hanno poi convinto gli spettatori, nonostante non gli sia stato dato troppo spazio. Per quanto The Walking Dead sia una serie estremamente corale, la storia è comunque incentrata sulla vita di Rick, da sempre leader del gruppo tra alti e bassi, ma totalmente abbattuto dopo il confronto con Negan. La bravura di Andrew Lincoln, poi, ci regala un percorso credibile per un personaggio sempre emozionante. Passiamo ora a ciò che ci ha lasciato perplessi. La battaglia morale tra Carol e Morgan è affascinante, ma utilizzata male, poiché spesso sovrapposta a situazioni tese dello show. I personaggi si isolano quindi dalla storyline principale e, nei momenti più carichi della stagione, non risultano mai sfruttati al meglio. Anzi, sono una distrazione sgradevole. Anche la comunità di Hiltop non è poi così presente, citata solo occasionalmente come espediente narrativo. Sappiamo bene che le sarà riservato più spazio ad ottobre, quando ripartirà la serie, ma ci sembra comunque un fattore troppo importante da sottovalutare. Del finale di stagione si è abbondantemente parlato. A lasciare perplessi è il modo discutibile in cui viene utilizzato l'espediente tanto caro alle serie tv del cliffhanger. Quando infatti cliffhanger poco efficaci vengono utilizzati con il solo scopo di rendere memorabile un episodio che non lo era, il trucchetto non funziona. Ed ecco poi cosa vorremmo dimenticare in questa sesta stagione. Nessuno è al sicuro è probabilmente il pensiero cardine di questa serie tv. Glenn invece è stato graziato, ma solo dopo che il nome del suo interprete era stato tolto dai titoli per convincerci della sua dipartita. È apprezzabile cercare di far salire la tensione facendoci temere per i personaggi che più amiamo, ma nessuno ha mai reso ridicolo questo espediente narrativo quanto gli sceneggiatori di The Walking Dead. Come Glenn anche il personaggio di Daryl soffre di una cattiva gestione. È stato utilizzato poco e male, specialmente in tutti quegli episodi tappabuco. Forse il fatto che Daryl non sia in alcun modo presente nei fumetti dopo sei stagioni incomincia a pesare troppo. Non si sa più cosa fargli fare.